Venerdì prossimo nella Chiesa di Santa Maria partirà il primo concerto della Rassegna Internazionale d'Organo. Sì, come tutti gli anni, anche quest'anno, l'Associazione Musicale di Santa Franca, peraltro, compie quest'anno 30 anni di attività. Non faremo grandi feste, anche perché, o grandi eventi particolari, perché comunque penso che tutti gli anni vi hanno fatto sempre, siamo distinti, spero, anche per la qualità delle nostre manifestazioni artistiche. E quindi anche quest'anno, come dicevo, questa serie di concerti che partiranno appunto da Santa Maria Assunta, con un concerto d'organo, di un organista italiano che vive in Svizzera, Tommaso Mazzoletti, che sono il grande organo dell'Abbazia di Santa Maria Assunta, quindi venerdì alle ore 18.45, sarebbe meglio 18.30 per entrare in chiesa. Questo sarà il concerto di apertura, ma il calendario è molto ricco. Sì, abbiamo in calendario cinque concerti, appunto il primo, che è il 13, il secondo concerto che sarà sempre in Santa Maria. Non a caso quest'anno faremo due concerti in Santa Maria, perché a seguito della manutenzione straordinaria dello strumento, quindi questo piccolo restauro che è stato fatto allo strumento, quindi 13.20 in Santa Maria, sempre alla stessa ora, la 18.30 con inizio alle 18.45. Dopodiché ci trasferiamo il 29 alla chiesa di Piazza Brin, quindi nostra signora della salute, il 29 che è una domenica, sempre alla stessa ora. Poi il 3 di giugno saremo nella chiesa del Fezzano, chiesa di San Giovanni Battista al Fezzano, e il 10 di giugno, che è sempre un venerdì, alla chiesa di San Giovanni e Agostino in Piazza San Agostino.